Entrano nel vivo le elezioni a Vasto. Questa mattina alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste avvenuta alla presenza del segretario comunale Anna Lucia Mascioletti, che a riguardo si è espressa così. È andato tutto benissimo, i candidati e i presentatori delle liste si sono presentati in maniera ordinata. Abbiamo lavorato ieri dalle 8 alle 20 con continuità, con assiduità. Oggi abbiamo finito, chiaramente poco dopo le 12, tutti si sono presentati nella tempistica prevista dalla legge che prevedeva la scadenza della presentazione delle candidature entro mezzogiorno di oggi. Le liste che si sono presentate sono appunto 22, sono composte alcune da massimo 24 candidati, qualcuno presentava un numero inferiore. Tutto si è svolto appunto con collaborazione sia dei presentatori, grazie anche alla macchina amministrativa del comune, che devo dire ha funzionato bene per la collaborazione del personale tutto. Sono sei candidati che si sfideranno nelle prossime amministrative, il sindaco uscente Francesco Menna per il centro-sinistra con sette liste, Partito Democratico, Sinistra per Vasto, Moderati per Vasto, Avanti Vasto, Filo Comune, Futuro e Sviluppo per Vasto, Città Virtuosa. Guido Gian Giacomo per il centro-destra ha presentato cinque liste, Forza Italia, Lega, Movimento Vasto, Fratelli d'Italia e Vasto al futuro. Alessandra Notaro ha con il suo gruppo civico, ha quattro liste a suo supporto, La Buona Stagione, Vasto 5.0, azione con Carlo Calenda e per Vasto. Dina Carinci del Movimento 5 Stelle si presenta con tre liste, Movimento 5 Stelle, Chiama Vasto e Vasto Damare. Angela Pennetta con due liste, L'Arcobaleno e con L'Orizzonte e Vasto e infine Anna Rita Carugno del Movimento Animalista con una sola lista. Ora rispetto per tutti gli animali. Per eventuali anomalie bisognerà aspettare il riscontro della Commissione? Certo, la Commissione della CECIR si è insediata questa mattina, noi stiamo provvedendo mano a mano a passare le liste alla CECIR e chiaramente poi visivamente non abbiamo notato cose particolari, tutte cose che comunque si potevano risolvere, abbiamo cercato di risolverle. chiaramente la CECIR farà, spleterà il compito di verifica sostanziale.